Io credo nella scienza, ma cosa vuol dire credere? Non è una religione la scienza, la scienza è fatta di persone, di uomini, donne che discutono, che si confrontano, che hanno dei dubbi, quindi mettono in discussione le cose. Se tu invece devi soltanto obbedire a una parte e solo quello che dicono loro va bene e quando c'è un confronto non va bene e vengono addirittura oscurati dei premi Nobel e dei medici importantissimi, addirittura quelli che hanno collaborato alla creazione dei vaccini, quindi non sono Novax, allora lì inizio ad avere dei dubbi, capisci? Io ripeto, io mi sono anche vaccinata, ho fatto perché ho seguito anche tanti consigli da persone che oggi stanno mettendo in discussione, medici che io, ovviamente sui quali io, dei quali mi fido perché non vorranno mai il mio male, di questo sono certa, però da sempre, perché non mi volevo vaccinare? Perché io avevo fede e fiducia sul mio corpo, sul mio terreno, perché da tanto tempo che io mi affido a quella scienza che ti aiuta a curare il proprio terreno, per evitare di ammalarsi, per non acquistare farmaci, perché voglio essere più me stessa possibile e per vivere felicemente. Forse siamo in troppi e che viviamo felicemente, quindi forse questo non piace tanto e questo non vuol dire, non voglio essere, non voglio avere l'arroganza di dire io non mi ammalerò perché io sono forte qua e là, perché questo è arroganza pura, non posso sapere che cosa mi accadrà. Posso solo tanto fare del mio meglio per vivere il meglio possibile e questa è una mia libertà che voglio avere. Ho un sacco di amici, come ho detto nel filmato precedente, che hanno avuto il covid non vaccinati e che si sono curati a casa loro, che tra l'altro il medico di base, quello del servizio sanitario nazionale, non è venuto neanche a curarli, si sono affidati alle loro terapie personali con medici, tra l'altro medici anche sospesi, che sono andati a curarli. Ok? E ci sono curati, non sono andati neanche in terapia intensiva, quindi tranquilli, il servizio sanitario nazionale non hanno proprio intaccato questo problema, questo sistema qui. Oggi di nuovo altra persona con il covid sta a casa, ha tre giorni, adesso ha meno mal di testa, sta meglio e ne sento sempre di più questo. Invece siamo atterriti da notizie in tutti i mezzi di comunicazione, aumentano i contagi, aumenta questo, le terapie intensive. È ovvio che se non vengono a curarti a casa vai a finire in terapia intensiva. È questo il problema, questo sistema sanitario che non funziona da tempo. Da quanto tempo, diciamo, che questo sanitario fa pettare? Che hanno tolto fondi per il servizio sanitario, che non ci sono medici, addirittura li hanno sospesi questi medici. L'ospedale di Pado l'ha chiesto per favore di reintegrare questi medici. È ovvio che allora così salta il sistema sanitario. Questo non è un invito, ripeto, non è un invito a non vaccinarsi. Chi ha bisogno, chi sente proprio di vaccinarsi, lo deve fare, perché le farà bene. Se te lo senti, deve fartelo. Però è un invito a non discriminare più, perché tutta questa ola di contagi di adesso non è per i non vaccinati, per quel 10%, non è per quello. E se il problema è le terapie intensive, non è neanche colpa loro, va bene? Perché se non ti vengono a curare prima, allora è ovvio che finisci in terapia intensiva. Possibile che hanno oscurato il creatore, non il creatore, quello che ha collaborato alla progettazione del vaccino RNA. Non posso neanche dire il nome, perché l'ho detto, in Facebook mi hanno bloccata, va bene? E questo qui non dice non vaccinarsi, dice che questo ha creato il vaccino. Cioè uno non è un Novax, va bene? Si è vaccinato pure lui, però ha detto che siamo andati troppo veloci. Ha detto che forse tante vaccinazioni hanno creato le varianti, continuano a creare le varianti. Quindi contagio ancora, quindi non è colpa, forse, dei non vaccinati. È una cosa che non si sa. E allora, se non si sa, non potete dare la colpa ai non vaccinati. E non potete andare avanti con questa discriminazione. Perché questo è un sistema che ci vuole divisi, ci vuole che ci odiamo tra di noi. Così non litighiamo con loro e quindi litighiamo tra di noi. Ci vuole malati, ci vuole terrorizzati, ci vuole indeboliti. Così poi sì, crediamo, preghiamo, preghiamo a chi? Al Dio, al Dio quale? Al Dio vaccino, al Dio farmaco. Io questa scienza non ci credo. Un abbraccio a tutti. Spero che l'anno prossimo ci veda con un pochino più di pace e tranquillità tra tutti. Ciao!